Best for Soil. Informazioni pratiche sulla solarizzazione. Ciao, mi chiamo Miguel e lavoro ad Almeria, nel sud della Spagna. Qui la solarizzazione è usata più comunemente e in questo video Best for Soil imparerai come e in quali condizioni funziona questo metodo. La solarizzazione è un metodo di disinfezione del suolo per il controllo delle malattie. Come tale, mira a ridurre prima della semina l'inoculo del patogeno esistente nel terreno. L'obiettivo finale è ottenere una riduzione economica della malattia per almeno una stagione. La solarizzazione comporta la copertura del suolo, che è stato adeguatamente inumidito con un polietilene trasparente e sottile o un film plastico specifico per un minimo di quattro settimane nel periodo dell'anno con le più alte temperature e radiazioni solari. Queste condizioni sono vitali per un'efficace solarizzazione e quindi questa tecnica non è utile per tutte le regioni d'Europa. La solarizzazione può funzionare bene in aree con un clima mediterraneo, il che significa estati soleggiate e calde nel periodo da giugno ad agosto che è quello migliore per una buona solarizzazione. L'interesse per la solarizzazione è iniziato quando gli agricoltori e altri professionisti hanno notato che i terreni con pacciamatura in plastica raggiungevano temperature più elevate rispetto a quelli non pacciamati. Si sono chiesti se questo aumento di temperatura potesse essere sufficiente per controllare i patogeni presenti nel suolo, in particolare nei terreni intensamente coltivati. Con questo obiettivo sono state progettate condizioni vicine alla pastorizzazione, inzuppando gli strati superiori del terreno e riscaldandolo con radiazioni solari. Il livello di temperatura raggiunto nei suoli solarizzati nelle aree mediterranee durante l'estate può essere letale per la maggior parte dei nematodi e dei funghi patogeni presenti nelle piante. I picchi di temperatura di oltre 45 gradi centigradi si ottengono solitamente nello strato di suolo che ha una profondità di 20 centimetri, dove vive la maggior parte dei patogeni. Pertanto, questo metodo può ridurre il livello di inoculo nei suoli mediante inattivazione termica di agenti patogeni. L'effetto termico-letale della solarizzazione nei confronti dei patogeni può essere migliorato aggiungendo sostanza organica. Questa tecnica si chiama biosolarizzazione e implica l'aggiunta di sostanza organica nel terreno prima di aggiungere acqua e coprire con pacciamatura di plastica. La biosolarizzazione combina i benefici della solarizzazione con quelli attribuiti alla decomposizione della sostanza organica, ovvero produzione di biocomposti letali per agenti patogeni, aumento di comunità microbiche non patogene e altri miglioramenti legati alla salute del suolo e alla fertilità. Il letame animale, il sovescio, i residui culturali o le colture biofumiganti possono essere utilizzati come fonti di sostanza organica. Esistono molti esempi di controllo efficace dei patogeni presenti nel suolo con biosolarizzazione e solarizzazione. Nematodi e funghi sono stati ampiamente studiati in laboratorio e con prove di campo. Alcuni esempi sono Fusarium patogeno di garofano, melone, pomodoro o cetriolo, Fitoftora capsici e Fitoftora parassitica, Meloidogine incognita, Meloidogine javanica, Verticillium dalie, Rizzoctonia solani, Pirenoccheta libcopersici o Pratilencus tornei. Grazie. 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 Grazie.